Nuova sfida per la 34esima edizione di Cersaie in scena a Bologna dal 26 al 30 settembre. Si parte da un risultato notevole, quello dell'anno scorso, che ha registrato oltre 100.000 visitatori provenienti da ben 170 nazioni differenti. Da qui si comincia dunque per costruire nuovi risultati, costruire, abitare e pensare, cita il noto claim della manifestazione. Il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e per la Redovagno punta a proporre prodotti realizzati con tecnologie innovative, mira a scelte sempre più consapevoli orientate a nuove linee di design unite a una maggiore efficienza. La fiera si sviluppa articolandosi in sei settori espositivi, su una superficie totale di 156.000 metri quadri. Le aziende aderenti sono 852 e molte provengono da 43 nazioni, dato in crescita rispetto al passato. In dettaglio sono 335 le aziende espositrici che arrivano dall'estero, principalmente da Argentina, Giappone, Regno Unito, Emirati Arabi e tutta l'Europa. Cersaie mette in mostra la ceramica e l'arredobagno. In questo appuntamento 2016 le aziende che rappresentano il comparto della ceramica sono 491, di queste 237 sono estere. Sono numeri importanti che raccontano un settore dell'edilizia sempre in prima linea. In questi giorni a Bologna si riuniscono i professionisti del mondo edile, architetti, interior designer, imprenditori addetti ai lavori e visitatori curiosi di scoprire quali sono le nuove tendenze per il bagno, per l'arredamento, quali le innovative soluzioni che promuovono il risparmio energetico e dell'acqua. Cersaie è una vetrina mondiale che quest'anno ha riservato diverse sessioni al confronto e alle ispirazioni con grandi professionisti dell'architettura. In particolare va citato il convegno del 27 settembre con Norman Foster, noto architetto inglese vincitore del premio Pritzker nel 1999, che ha proposto diversi suoi progetti realizzati. Tra gli appuntamenti rilevanti anche gli incontri con le scuole e i nuovi giovani architetti, per un futuro dell'architettura sempre più 4.0, incluso l'incontro con l'architetto e designer Ugo Lapietra, intervistato dagli studenti degli istituti superiori provenienti da tutta la regione Emilia-Romagna. Mattonelle, design, colori ed arredamento, uniti a nuove proposte tecnologiche, rendono Cersaie un appuntamento interessante e di completa ispirazione per tutti i visitatori. Mattonelle, design, colori ed arredamento, uniti a nuove proposte tecnologiche, rendono Cersaie, rendono Cersaie, rendono Cersaie, rendono Cersaie, rendono Cersaie, rendono Cersaie.